Ciao a tutti, nel video di oggi Fedez e Chiara, leggermente ubriachi, tornano a casa cantando meglio del cinema. Ci vediamo domani con il video completo alle 14.05, buona visione. Giuro, mi fai venire voglia di divorzio. Da questo video potete capire che è finita la Fashion Week, amici. Devo allenare, dai.